Il Monopoli che affronterà domani al Partegno Lavellino è un po' rabberciato perché mancherà sicuramente in difesa per squalifica Carnielutti, sicuramente anche al centrocampo De Riccio che è uscito con un problema muscolare contro il Catania e difficilmente sarà recuperato, qualche chance in più ce l'ha Vassallo sempre al centrocampo, uscito comunque anche lui in antitempo con il Catania per Crampi. Dunque al posto di Carnielutti potrebbe giocare Fornasier al centro della difesa insieme a Ferrini con Fazio confermato a destra e De Santis a sinistra davanti al portiere Perina. Al centrocampo dunque out derisio, la coppia potrebbe essere formata da Vassallo e Amlili, laddove Vassallo non dovesse farci neanche lui ci sarebbe pronto Iaccarino, per il resto la tre quarti dovrebbe essere confermata, ovvero sugli esterni a destra Ragostino e a sinistra Borello con dietro la punta Starita, la punta sarà Spalluto che ha giocato la prima partita da titolare giovedì con il Catania e si è ben disimpegnato, potrebbe esserci anche la novità, in questo caso un ex Santaniello che però dovrebbe partire dalla panchina Grazie. Grazie. Grazie.